L'appuntamento è giovedì in Parlamento. Quando il Premier svolgerà un'informativa urgente sugli sviluppi del conflitto in Ucraina, prima al Senato e poi alla Camera. Ma non è previsto alcun voto, come invece chiedono i 5 Stelle. Insieme al termovalorizzatore di Roma, questo è l'altro fronte caldo che vede Giuseppe Conte contrapporsi frontalmente a Mario Draghi. Sembra di essere già in campagna elettorale. Anche se in pochi credono che il leader pentastellato sia già disposto a tirarsi fuori dalla maggioranza. Essendo quella di giovedì una semplice informativa, le due assemblee parlamentari non saranno chiamate ad esprimersi sulle risoluzioni. Un voto potrebbe esserci però a fine mese, quando Draghi tornerà in aula per le comunicazioni in vista della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio, dove si parlerà di energia, Ucraina e difesa. Conte ha dovuto ingoiare il boccone amaro del terzo invio di armi a Kiev, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 maggio, quando Draghi era appena tornato dal viaggio negli USA. Ma il leader Grillino ha già avvertito il premier, abbiamo dato armi a sufficienza, adesso l'Italia deve essere in prima fila per la pace. Il problema è che il terzo decreto interministeriale, firmato anche da Luigi Di Maio in qualità di ministro degli esteri, potrebbe non essere l'ultimo. Se la guerra non si fermerà, nulla esclude che in futuro possa esserci una quarta spedizione di forniture militari. Draghi e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini si sono sempre mostrati decisi e non hanno mai preso in considerazione le richieste grilline di subordinare gli invii di armi al via libera del Parlamento.